mister di meo altri tre punti importanti una prestazione che l'ha lasciato disfatta sufficiente una prestazione sufficiente secondo il mio punto di vista perché abbiamo sbagliato tanti gol davanti alla porta e sicuramente sono un po rammaricato da questo punto di vista perché bisogna fare gol sotto porta quando hai dieci palle gol bisogna metterle dentro le palle infatti è arrivata anche un'altra pedina in attacco può essere questo l'elemento in più per fare la differenza alla lunga ma il valore di ripa penso che lo conoscono tutti quanti è un giocatore importante ha fatto tanti gol adesso l'unica cosa che deve sapere che si deve calare nella categoria troverà gente che è stata nata su di lui che lo terranno ben d'occhio perché è uno che ha fatto tanti gol nella sua carriera l'anno scorso mi sono fatto 18 sta fisicamente deve migliorare perché è arrivato in condizioni benissimo però penso che in dieci giorni 15 giorni lo mettiamo a posto domenica si torna già in campo con qualche condizione e convinzione in più convinzione abbiamo vincito le partite la convinzione è questa io sono venuto qua per portare su il campo basso e farò di tutto per portare su il campo basso di tutto i ragazzi lo sanno quando sbagliano sotto porta mi arrabbio tantissimo sono molto rammaricato da questo punto di vista perché mi hanno sbagliato tanti gol nella porta colombo una buona prestazione qui a cartella di sangro condita da una gioia personale il gol che ha sbloccato la partita sì ma il gol sinceramente non è molto importante è importante che la squadra porti a casa il risultato così come è successo oggi anche se potevamo fare meglio sicuramente potevamo essere più concreti non abbiamo sfruttato al meglio un sacco di occasioni però cercheremo di fare meglio la prossima volta sono diverse settimane che ormai lavori con questo gruppo come ti trovi con questa squadra no il gruppo è affiatato lavoriamo bene durante tutta quanta la settimana però possiamo fare ancora di più e come ha detto il mister la settimana scorsa non siamo ancora al meglio della condizione fisica e adesso non ci resta che abbassare la testa e continuare a lavorare alla luce di quello che si è visto finora dove si può ancora migliorare oggi sicuramente con sulla concretezza abbiamo non abbiamo sfruttato come già detto precedentemente un sacco di occasioni e questa è l'unica cosa che posso dire io poi il resto sarà il mister a dirci dove possiamo migliorare come possiamo migliorare fabrizio pistillo una partita che si è messa subito nel migliore dei modi come analizzi questa vittoria sì siamo partiti bene abbiamo iniziato come come desiderava il mister subito aggressivi e infatti l'abbiamo sbloccata poco dopo la fine verso la fine abbiamo siamo un po calati anche fisicamente però ci sta durante l'inizio del campionato quindi qualche qualche piccolo in giambo può capitare sei uno di quei giocatori che sa cosa significa indossare la casacca rosso blu come ti senti ad affrontare questa avventura in questo campionato ma sono molto onorato anche sono stato quattro anni fa qui a basso sono stato benissimo la piazza ai tifosi sono sono molto vicino alla squadra e vogliamo proseguire su questi risultati gli obiettivi della squadra sono stati ampiamente dichiarati invece i tuoi obiettivi in questa stagione ma giocare il più possibile fare bene aiutare la squadra grazie a tutti